Ciao ragazzi, oggi è una grande festa nella Chiesa, è la festa del Sacro Cuore di Gesù. Se io vi chiedessi di disegnarmi l'amore, cosa fareste? Logicamente mi disegnereste un cuore, perché il cuore è il simbolo dell'amore. Per questo Gesù ha voluto manifestarsi come il Sacro Cuore, il Sacro Cuore per manifestare quanto ci ama. Ed è apparso a una suora francese nel 1673. Questa suora si chiamava Margherita Maria Alacoque, una monaca francese. Mentre era questa suora a pregare nel suo convento, è apparso Gesù. Gesù che le mostrava il suo cuore nel petto, lei ha visto il cuore di Gesù, chiaro, così vivo, e Gesù le diceva che voleva che Margherita diffondesse l'amore di Dio, che tutti quanti sapessero che Gesù ci ama tanto, tanto, tanto. Gesù è apparso a Santa Margherita Maria Alacoque più o meno così, mostrando il suo cuore aperto nel petto. Il cuore si trovava su un trono di luce e questo trono di luce usciva dal cuore e nel cuore c'era la corona di spine, delle ferite, perché queste ferite simboleggiano tutto il dolore di Gesù per tutti i nostri peccati. E dal cuore di Gesù uscivano tante fiamme, queste fiamme che sono le fiamme dell'amore per farci capire quanto ci ama. E qui non si vede bene, ma in tutte le altre immagini del Sacro Cuore potete vederlo, anche una croce. Santa Margherita ha visto sul cuore di Gesù una croce, perché è quella croce con cui Gesù ci ha salvati. E Santa Margherita ascoltò il Sacro Cuore di Gesù che le diceva, guarda questo cuore che ha amato tanto gli uomini e non riceve altro se non ingratitudini e disprezzi. E poi ha aggiunto, almeno tu amami. E così Gesù stava chiedendo a Margherita, almeno tu amami. Ed è ciò che sta chiedendo anche a noi, almeno noi dobbiamo amare Gesù. Nella nostra parrocchia abbiamo due quadri di Gesù. Sembrano uguali, ma non lo sono. Uno si trova in chiesa sopra il Battistero, un altro si trova qui in Capelina. Vediamoli insieme. Il quadro che si trova in chiesa è il quadro del Cristo Misericordioso, che è apparso a una suora polaca chiamata Santa Faustina Kowalska. E Gesù si è manifestato mentre dal suo cuore uscivano due raggi di luce, uno rosso e uno bianco. Nel Vangelo leggiamo che quando Gesù è morto lo hanno traffitto con una lancia e dal suo cuore sono usciti sangue e acqua. Così, nel quadro del Cristo Misericordioso, vediamo che escono due raggi di luce, uno rosso e uno bianco. Il raggio di luce rosso simboleggia il sangue, che è la vita delle anime, e il raggio bianco simboleggia l'acqua, che lava la nostra anima da tutti i nostri peccati. Per questo il quadro si trova sopra il battistero, dove con l'acqua sono battezzati i bambini. Il quadro del Sacro Cuore di Gesù si trova in cappellina, in fondo, e lo distinguiamo perché si vede chiaro, molto chiaro, il cuore con il fuoco, la corona di spine e la croce, così come lo abbiamo spiegato. Abbiamo il quadro del Sacro Cuore di Gesù anche in Chiesa, ma molto piccolo e sembra nascosto, ma potete vederlo in qualunque momento quando verrete a trovare Gesù. La devozione al Sacro Cuore è una devozione molto importante nella Chiesa. Potrei dire che è quella più importante di tutte, perché manifesta l'amore di Dio. Per questo Gesù, quando è apparso a Santa Margherita, ha detto che se uno ha tanta devozione al Sacro Cuore, riceverà tante grazie e tanti benefici, e ha fatto dodici promesse. Quali sono queste dodici promesse? Ha detto che se uno è devoto al Sacro Cuore, dice il Sacro Cuore, darò all'anima devota tutte le grazie necessarie per la loro vita. Poi la seconda promessa dice, metterò la pace nelle loro famiglie. La terza dice, li consolerò in tutte le loro pene. La quarta, sarò loro rifugio sicuro durante la vita e soprattutto nell'ora della morte. Quinta, spargerò abbondanti benedizioni su tutte le loro imprese. Sesta, i peccatori troveranno nel mio cuore la fonte e l'oceano infinito della misericordia. Settima, le anime tiepide diventeranno ferventi. Otto, le anime ferventi si eleveranno a grande perfezione. Nove, benedirò le case dove l'immagine del mio Sacro Cuore sarà esposta e onorata. Dieci, darò ai sacerdoti il dono di toccare e i cuori più induriti. Undici, le persone che propagheranno questa devozione avranno il loro nome scritto nel mio cuore dove non sarà mai cancellato. Dodici, io prometto nell'eccesso della mia misericordia che il mio amore onnipotente concederà a tutti quelli che si comunicheranno il primo venerdì del mese per nove mesi consecutivi la grazia della penitenza finale. Essi non moriranno in mia disgrazia né senza ricevere i sacramenti e il mio cuore sarà loro rifugio sicuro in quell'ora estrema. Io spero, ragazzi, che tutti noi possiamo guardare il Sacro Cuore con una devozione molto speciale. Ricordiamo, lui ci ama tanto e quando è apparso voleva manifestare e dirci questo, io vi amo da morire e io solamente voglio che voi mi amiate. Buona festa a tutti. Ciao! Ciao!